Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti. Per i seguaci dell'alta tensione proseguiamo col progetto mini zapper e quindi questa è la seconda puntata. L'altra volta abbiamo visto che dando una 12 volt, mandando in oscillazione questo BJT, ottenevamo in uscita delle tensioni di circa 700-800 volt. Vogliamo aumentarle, quindi le modifiche che ho fatto stasera prevedono l'aumento di una spira all'avvolgimento N1 e in questo modo si ottengono circa 980 volt. Ecco il circuito prototipo, in pratica ho aggiunto una spira al primario con questo filo verde. Diamo tensione. Ecco, mi trovo a 12 volt, vediamo che il multimetro indica 1010 volt, poiché, come dicevamo l'altra volta, stiamo misurando su un partitore resistivo 1 a 1000, fatto da una resistenza da 1 giga ohm e da una resistenza da 1 mega ohm. Evidentemente, abbiamo guadagnato 200 volt, se vado qua, ecco che abbiamo la scarica. Ora, per alzare ulteriormente la tensione di uscita, inserisco in uscita un moltiplicatore di Cockcroft-Waldson. Sostanzialmente sono delle celle fatte con condensatori e diodi. Ogni cella ha un fattore moltiplicativo per 2, quindi inserendo due celle, se qua adesso abbiamo 1000 volt a questo avvolgimento, in teoria dovremmo fare un per 4, quindi arrivare a 4000 volt. In realtà sarà un pochino di meno perché ovviamente questo circuito introduce delle perdite. Il principio di funzionamento prevede che quando ho una tensione positiva su questo avvolgimento, quindi qua ho un più, il D1 entra in conduzione e mi fa caricare il condensatore C1 alla tensione, chiamiamola V, quindi la tensione che si localizza al secondario. Il D2 invece è interdetto in quanto la tensione ai suoi capi non supera la soglia. La semionda opposta invece prevede che il più della tensione stia qui e stavolta il meno e quindi entra in conduzione D2 e sostanzialmente su questo condensatore C2 si viene a trovare una tensione che è la tensione di C1 più un'altra volta V perché è stato girato di polarità. E quindi a questo punto ho un per 2, su questo nodo qui ho il doppio della tensione che normalmente si localizza al secondario del trasformatore. Se aggiungo un'altra cella il discorso si ripete su questa porta, quindi dovrei avere un per 4. Per il dimensionamento di questi condensatori bisogna tener conto che devono ottenere 2V e quindi nel mio caso che starò a 1000V o un po' più bassi, sceglierò dei condensatori da 2KV. Ad esempio come questi che sono dei 6800 picofarad a 2KV in polipropilene MKP. Facciamo la prova con il moltiplicatore di Cockroft inserito, vado su piano piano, 5V, 6V, 7V alimentazione, ecco, sono a 10V, si è innescato 4700V, quindi effettivamente sta facendo un per 4. Quindi sono a 10V e sto assorbendo 660mA. Adesso ho ottenuto gli elettrodi lontani, proprio per non farli scaricare, in quanto avendo lo strumento collegato non voglio rischiare di danneggiarlo. Provo ad andare più su di tensione, 10V e 2V, 11V, si arriva a 5000V. Andando ancora un pochino più su, a 12V tondi, qua, 5500V e 830mA assorbiti. Questa è la tensione a vuoto del secondario, quindi ho smontato il moltiplicatore di Cockroft a 10V di alimentazione, ha una frequenza di switching di 44kHz con un picco di quasi 1000V, come vedevamo prima con il tester. Andando su di alimentazione, il valore di picco non aumenta, aumenta un po' la frequenza. Ecco, qua sono a 12V e questo è a vuoto. Nel circuito bisogna fare una correzione, bisogna inserire un diodo qui, di modo che così il condensatore intrappola la carica e non si scarica via di qua. Infatti in questa maniera, il condensatore che poi provvederà alla scarica, immagazzina la carica e la cattura. In questo modo riesco a raggiungere i 9000V, quindi una tensione che comincia a essere buona per fare la scarica. Infatti, se vado a zoomare qui sui due elettrodi che sono molto vicini, noterò che si innescano le scariche. Infatti, se vado a zoomare qui sui due le scariche, non si scarica via le scariche, non si scarica via le scariche. Adesso del tuo amico! Di volta che dopo 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 mio video, vediamo il nostro rock.